Cenerentola che si prepara per andare al ballo di mezzanotte, no? Allora sta chitta tutta a Cenerentola e dice oh, ora vado a sera dal ballo di mezzanotte per stare il principe, mi piace una cima a me che il principe. Qui a parte con sta zucca va al ballo di mezzanotte. Allora si incontra col principe, viste a ballare col principe, un po' un tratto il principe si ingrifa, fa oh, a Cenerè, fammo qualcosa qui perché mica si può tornare a casa così, vedi come sto qua. Cenerentola fa no 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 io non ti faccio niente, fermati. Dai 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 fammo qualcosa, che ha la mano, no no no. Cenerentola fa guarda, proprio proprio proprio, ti ho posto faccia la bocca, ne più, vabbè mi accontenta la Cenerè, e dai. Allora io comincio a fare sto lavoretto di bocca, tutto il tratto li tocca a mezzanotte. Allora Cenerentola fa porco giù da mezzanotte io devo scappare, chiappa scappa, monta entra la zucca, allora il principe fa, Cenerentola a scarpetta, fatta la fatta tu madre.